mi chiamo maria teresa caroli e vengo da dieti con canton zurigo sono venuta a gennaio e ho fatto due impianti e poi ho fatto due devitalizzazioni adesso sono venuta per concludere diciamo il lavoro mi sono trovata molto bene già a gennaio mi sono trovata bene adesso ugualmente ho finito e quindi sono contenta del risultato finale diciamo ho deciso di venire qui perché comunque ho guardato un po come tutti su facebook e ho visto che una clinica abbastanza seria in svizzera anche sono stata però alla fine ho preferito venire qua penso che siete abbastanza all'avanguardia come tecnologia anche i medici sono molto gentili premurosi quindi siamo in buone mani ecco sono venuta con mio marito perché anche lui sta facendo dei trattamenti qui e con mia figlia perché aveva le vacanze quindi siamo venuti in tre siamo stati anche un fine settimana al mare siamo stati a durazzo al mare e si ed è bellissimo cioè veramente e poi si mangia benissimo per me è stata una bella esperienza anche perché poi alla fine ho conosciuto tante persone che venivano da tutte le parti e diciamo da tutta l'europa e quindi è stata un'esperienza molto positiva